È un impegno che è sostanzialmente prodotto da questa esigenza di creare sostenibilità nel lungo termine e non è legato a decisioni di una singola persona o di un board, ma che coinvolge tutta la banca nel suo insieme. Quindi per noi questo è ancora più importante dell'intervento in sé. Ma ripeto, non è che non sia necessaria la filantrofia o il mecenatismo, questa è una cosa però diversa, è molto più coinvolgente, molto più di lungo termine, molto meno legata a logiche aziendali di breve periodo, ma molto più di lungo periodo, come dovrebbe essere appunto un concetto di sostenibilità. Il modello di Teleton, che lei mi sembra di aver capito ha definito di futuro sostenibile, più che di sviluppo sostenibile, è esportabile ad altri settori? Penso di sì, anzi sicuramente lo è. Quello che è importante è che Teleton è un modello di charity, di fondazione, straordinariamente efficace, è efficiente ma soprattutto è anche efficace. Molte altre organizzazioni hanno dei costi di gestione estremamente elevati, Teleton non lo è e questa è una delle sue grandi forze.